Ciao e benvenuti nel nostro canale. Recitiamo la crociata di preghiera 10 per portare la fiamma dell'amore di Gesù. Ma prima vi chiediamo di iscrivervi al canale e mettere un mi piace a questo video. Ci aiuterai a diffondere i nostri messaggi ai fedeli. Aiutaci, caro Gesù, ad alzarci senza paura nel tuo nome per portare la fiamma del tuo amore in tutte le nazioni. Dona a noi, i tuoi figli, la forza per affrontare l'abuso che ci troveremo ad affrontare tra tutti quelli che non sono veri credenti nella tua misericordia. Amen. Grazie per averci seguito. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.